...le pietre erette e tutta la parte del sud dell'Università. You must understand, these are part of a global network of standing stones and centers all over the world. Questa è una parte di un grande network di pietre erette e di costruzioni che sono sia, questa è il centro un pochino di altre pietre che sono in tutto il mondo. Per cui la connessione diretta con i nostri antichi predecessori parte da questo punto e coinvolge però tutto il pianeta. Sono coinvolti in diverse dimensioni e diversi tipi di realtà.